Pace bene. Prima di tutto vorrei darvi il saluto del nostro Ministro Generale Roberto Genuini, che non è presente con noi ma ci accompagna con la sua preghiera. Ringrazio anche il Padre Maurizio Provinciale che ha permesso la mia presenza anche qui in mezzo a voi. Ci sono tante delle domande che le persone si fanno costantemente per cercare di capire cosa c'è nella vita, come pensare a questi momenti e come applicare il senso di queste festività nella propria esistenza. Perché questa notte è diversa dalle altre? Perché questa vigilia? Perché la Mesa a quest'ora? Perché la nostra admirazione e devozione verso Padre Pio ci ricordano che giusto a quest'ora, nel 23 settembre del 68, Lui culminava la sua missione sulla terra e partiva in pace per il cielo. E la sua santa morte ha riempito di senso questo preciso momento e ci fa radunare qui per rivivere la grazia di quell'istante in cui il cielo si è aperto. La liturgia della parola che abbiamo appena ascoltato ci ripropone un grande valore che ha orientato la vita del nostro caro San Pio. La ricerca di quella vera sapienza che non si perde nelle cose del mondo, che non si vanta delle sue ricchezze né dei suoi piaceri, ma trova un profondo godimento nella croce del Signore. Non tutti capiscono questo. Ci sono tanti che ricorrono a Padre Pio per essere liberati dalla croce, ma in verità, quando davvero si avvicinano a Lui e lo conoscono un po' più profondamente, lo vedono portando l'estimate di Cristo con amore e pazienza. Lo scoprono molto perseguitato, ingiustamente, senza rivelarsi. Lo contemplano con una salute fragile, ma profondamente interessato nel sollevare i dolori degli altri. E allora comprendono che quello che di meglio Padre Pio può regalarci è far arrivare anche noi alla sapienza della croce, e aiutarci ad abbracciare la nostra croce senza perdere mai la gioia, la speranza e la pace. Infatti, io ricordo anni fa, quando ero ancora studente, e sono venuto ad aiutare i miei confratelli nel servizio ai pellegrini, come mi colpiva vedere tanta gente immersa in situazioni difficili. Alcuni con gravissime malattie o altri problemi, però segnati dal sorriso e dalla pace. Avevano trovato nel Padre Pio quella forza straordinaria che soltanto dal cielo può venire, che ci fa essere sereno e fiducioso anche quando il mare dove siamo è sconvolto e agitato. Padre Pio è davvero il Cirineo di tanti, ci accompagna, ci solleva, ci aiuta a comprendere che con Cristo il gioco si fa dolce e il peso diventa leggero. E questa saggezza, fratelli e sorelle amati, soltanto la possono comprendere i semplici e i piccoli, come diceva Gesù nel Vangelo. I dotti e i saggi di questo mondo non sono capaci di percepire la bellezza della croce di cui San Pio fu una vera immagine. Infatti, tanti li hanno perseguitato, calunniato e deriso. Ma ciò ha servito ancora di più a mostrare quanto Padre Pio amava la croce, poiché ha saputo dare, davanti a tutto questo, una risposta di fede e umiltà, senza rinnegare mai. Sono sicuro che fu questa comprensione profonda del mistero della croce, abbracciata nella sua vita, che ha fatto di lui un uomo così sensibile a tutti i sofferenti, sia attraverso le guarigioni straordinarie che ha già compiuto nella sua vita e ancora lo fa, ma anche e soprattutto attraverso la casa sollievo della sofferenza, che nelle cure ordinarie, mediche, umane e religiose, aiuta e accompagna tantissimi nelle sue malattie, oppure attraverso i gruppi di preghiere, che in tutto il mondo sopportano a tanti sofferenti. Infatti, sebbene molti gli chiedono miracoli straordinari, esistono in tutto il mondo tante opere solidarie che, ispirate nel nostro carissimo Padre Pio, aiutano a quelli che portano pesantissimi croci ad andare avanti. Odiamo il Signore per i miracoli che ci stimolano, ma l'odiamolo anche per questo servizio di amore, di sollievo, di fede, che ci pone sulla scia del nuovo Cirineo dell'umanità. È nella croce di Cristo che Padre Pio, come San Paolo, ha trovato il suo vanto. Infatti, Lui ha vissuto tutta la sua vita crocefisso per il mondo. E non soltanto perché ha portato le sacre stimmate per cinquant'anni, ma molto di più perché con un atteggiamento vitale che si rivelò nella sua umanità, nella sua obbedienza, nel suo servizio, Lui ha insegnato con l'esempio che chi non abbraccia la propria croce di ogni giorno e segue Cristo, non è degno del suo regno. Perché, appunto, avere le sacre stimmate senza assumere e vivere le virtù cristiane eroicamente non sono sufficienti per essere santi. È per questo che lo amiamo tanto. In Lui troviamo un esempio di coerenza e autenticità tra i segni che ha portato e la vita che ha vissuto. Ecco qui il segreto del perché tanti lo vogliono bene, tanti lo seguono e tanti lo cercano. Senz'altro, Lui è un grande intercessore e ci ottiene tante grazie dal cielo. Ma certamente quello che ci sconvolge di più è il suo sguardo penetrante che con una dolcezza straordinaria, ma allo stesso tempo con una forza audace ci domanda «Hai già abbracciato la tua croce?» E Lui insiste con ognuno di noi dicendoci «Coraggio, sono qui con te, abbracciala!» E Lui continua «Certamente possiamo anche intercedere perché il Signore realizzi qualche miracolo nella tua vita, qualche guarigione, qualche cambiamento, ma non ti lascerà senza croce. O Padre Pio, in questa notte santa che il cielo si è aperto per riceverti, noi ti preghiamo perché oggi di nuovo il cielo si apra su di noi con tante benedizioni e grazie. E nessuno ritorni nelle sue case o lasci questa trasmissione con le mani vuote. Però soprattutto ti chiediamo la grazia di comprendere la sapienza della croce e di aiutarci ad abbracciare la nostra di ogni giorno per essere anche noi autentici cristiani come tu sei stato. L'odato sia Gesù Cristo. Grazie.